La Toscana è la regione d'Italia con il più alto numero di incidenti stradali causati da ungulati in rapporto alla popolazione, 23 lo scorso anno. Sono i dati ASAPS diffusi oggi da Coldiretti Toscana in occasione della mobilitazione per chiedere un piano di contenimento straordinario alla regione toscana. Circa 2000 agricoltori si sono ritrovati in Piazza Duomo per esprimere la loro esasperazione. Due milioni di euro i danni causati dagli ungulati, precisa Letizia Cesani, presidente di Coldiretti Toscana, e sono stime al ribasso perché molti non denunciano. Tra le colture più colpite l'uva, ma anche i campi di mais e cereali sia nella fase di semina che di maturazione. L'emergenza spiegano, non è solo economica ma anche sanitaria, il riferimento è alla peste suina che sta lambendo i confini settentrionali della nostra regione. Accanto agli agricoltori, anche molti sindaci e amministratori. Ma la richiesta è alla regione toscana affinché venga redatto un piano straordinario di contenimento della fauna selvatica, non solo cinghiali quindi. Nel mirino di Coldiretti, anche il nuovo piano faunistico regionale, la cui approvazione è prevista a settembre, del quale viene chiesta la revisione. Sul palco è salita anche l'assessora all'agricoltura Saccardi, comunque applaudita, che ha sottolineato come anche la regione si stia muovendo in questa direzione. La convivenza con la fauna selvatica è possibile, ma non dove ci sono aree votate all'agricoltura, ha sottolineato l'assessora. Saccardi ha ricevuto una delle sagome in cartone portate in piazza dai manifestanti. Lo riprenderemo quando le nostre richieste saranno ascoltate. Era, diciamo così, il biglietto del regalo.